Questa lista civica nasce con l'esigenza di avere una rappresentanza under 35 nel nostro comune, nella nostra amministrazione. Nasce con un intento di portare delle nuove politiche nella nostra città, delle politiche volte ai giovani, al futuro per portare questa città, proiettarla verso il futuro. Le nostre idee vanno dal turismo all'emergenza abitativa che colpisce anche i giovani, oltre a tutto il territorio comunale. Diamo molta importanza alla salute mentale, prevedendo uno sportello psicologico per gli under 35 e diamo molta importanza anche alla parità di genere. Vogliamo potenziare i centri antiviolenza, vogliamo abbattere l'IVA sugli assorbenti, insomma un occhio di riguardo per le cosiddette quote rosa. Pensiamo molto anche agli studenti, vogliamo riportare qualche facoltà delle università marchigiane qui a Pesaro. Vogliamo dare una completa rivoluzione all'informa giovani affinché sia uno strumento al servizio dei giovani, sia a livello di corsi, di preparazioni, ma anche ad esempio per l'imprenditoria giovanile. Deve essere uno strumento per tutti per cercare di crearsi un futuro sicuramente migliore e lavorativo in questi tempi così difficili.